Oggi, 26 del mese di novembre dell'anno 2019, alle ore 14, davanti a me, Ivana Gaveglio, il sindaco ufficiale del Stato civile del Comune di Campione, e personalmente comparso a Cascandio Rosicco, nato in Bacau, Nania, il 12 aprile 1974, il quale mi ha prodotto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2019, notificato il 21 novembre 2019, con il quale è stata concessa la cittadinanza italiana e mi ha chiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, io ho avvenuto e il comparente presto il giuramento, pronunciando eseguanti parole. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Bene, il Presidente Atto viene letto all'intervenuto, il quale insieme con me lo sottoscritto. Quindi, le spavano di Bacau. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie. Grazie.